Ma la stitichezza è psicosomatica, è una malattia dell'anima, prende il corpo ma in realtà è l'incapacità di tirar fuori qualcosa dal cervello. Ne siete affetti tutti, tutti, mi fate schifo, io mi sono rotto il cazzo, tu hai disimparato a lottare, per cosa? Lottare basta, dobbiamo fermarli, fermare chi? Lo sai bene chi dobbiamo fermare, e se non lo sai usa la fantasia, il popolo avanza, non siamo due netti io e te, sì per il momento saremo io e te, ma in due è meglio che da soli. Ti sei addormentato, bravo, statene tutto il giorno a letto, il popolo avanza, e pure io oggi, oggi.